Il Simple Render, Money Sturtile alle 8, 8 e 0, 9 minuti, siamo qua dopo il Cristalistori delle 8 e non sono solo perché con noi c'è Cecilia Riemer, buongiorno Cecilia, buongiorno Fabio, buongiorno, benvenuta, bentornata, è sempre un piacere essere qui, anche se ogni volta ho la voce distrutta, però do la colpa all'orario, do la colpa all'orario, al secolo Cecciux, su Instagram è Cecciux, giusto? Esatto, quindi se volete seguirla, seguitela su Instagram con il profilo Cecciux, siamo qui perché appunto Cecilia, tu sei una musicista, cantante, cantautrice anche, posso non aver scritto delle tue cose, giusto? Sì, esatto, sì, sì, quindi rientri anche nella categoria cantautrici, volendo, ma soprattutto c'è questa cosa che mi piace tantissimo che tu fai, che è quella di andare a suonare per strada, esatto, ok, lo fai mai da un po' anche? Sì, da due annetti, cavolo, ricordiamo che tu quanti anni hai? Un anno e mezzo Tu quanti anni hai Cecci? 21 21 anni, quindi da 19 anni hai preso la tua chitarretta e sei andata a suonare per strada, perché? Ma allora, io... Voglio la versione vera, non quella che dici a... Ok, non quella... Non quella che dici a mamma, papà, o quella che dici ai fan Allora, da una parte perché vedevo tante persone farlo e mi piaceva un sacco come cosa, volevo provare Dall'altra anche perché era un periodo in cui mi trovavo al verde e avevo bisogno in qualche modo di fare un po' di soldi Di monetizzare la tua arte e ce l'hai fatta, nel senso che comunque funziona, no? Sì, ho iniziato, mi è piaciuto un sacco, mi sono divertita tantissimo e da lì ho iniziato l'anno scorso Non sei l'unica che fa questa cosa, tant'è che infatti negli anni il comune di Milano è dovuto, diciamo, ricorrere a delle strategie per gestire questa cosa Perché immagino che sia soprattutto poi magari nelle zone più trafficate una roba, tutti vogliono andare a suonare lì, no? Ecco Sì, sì, sì E quindi in realtà c'è proprio tutta una modalità per cui a Milano chiunque faccia già l'artista, adesso poi mi spieghi bene questa cosa Può prenotarsi un posto, spiegami tu come funziona Allora, prima c'era un sito terribile, assolutamente non funzionale, che poi è diventato, grazie al cielo, un'applicazione erogata dal comune Che funziona benissimo, io mi diverto un sacco di usarla Sostanzialmente gli artisti, in questo caso di Milano, ma vale per diverse città italiane, tantissime, adesso sempre di più Ci si registra, c'è una pratica burocratica, un po' noiosa, un po' lunga, per la quale tu devi certificare di essere un artista Devi mandare documenti, video, insomma, devono accertarti Dimostrare che già fai quella roba lì, non che domani decido di diventare artista di strada così Esatto, in quarto artista, e tra l'altro non solo per la musica, ma per qualsiasi tipo di arte stradale Quindi è proprio bello, io rientro nella sezione musica, quindi, ok Voglio fare il mimo io, volevo fare... Esatto, c'è anche quel tipo di arte, sì Eh, Beatrice, mi metto la tutina nera e vado a fare il mimo in mezzo alla strada, so fare giusto la corda Infatti E quello alla finestra Volendo potresti Come diceva Aldo Giovanni Giacomo nel famoso film E ci si registra a quel punto, tu hai una mappetta di Milano, divisa in zone Selezioni la zona e vedi... Ti piace così tanto l'applicazione che la chiamavi mappetta C'è una mappetta, perché è carina questa applicazione Siete amici tu l'applicazione, ok Io lo so un sacco C'è una mappetta, tu selezioni la zona, hai tutte le postazioni per quella zona Selezioni lo slot orario, che è di due ore Devi anche lì, insomma, specificare diverse cose Tipo il tipo di missione che avrai, sia acustica o amplificata E a quel punto tu semplicemente ti presenti, hai il tuo slot, la tua postazione prenotata Quindi se passano a controllarti sei a posto Cioè sei certificato artista che è lì Ma passano a controllare ogni tanto? A me non è mai capitato Perché quanti siete? Cioè sull'app so che puoi vedere anche gli altri Ti sei stata un'idea di quanti più o meno? A Milano non ne ho idea Centinaia e centinaia Cioè forse no, migliaia no Sì sì, no, un sacco Io due con Beautiful Day E speriamo sia un Beautiful Day Il giorno che appunto vai a suonare Esatto Quando sarà il prossimo? Venerdì Questo venerdì mattina Dalle 11 alle 13 in piazzale Baracca Ah, ok Sperando che il tempo regga Io davvero spero che sia un Beautiful Day Davvero Vedendo le piogge di questi giorni Quindi incrociamo le dita Trapanesi appunto Piazza della Baracca Non è una di quelle zone Che mi verrebbe in prima in mente Cioè Prima parlavo di Corso Bonosari Mi verrebbe in mente andare lì ad esempio Certo Invece come mai scegli certi luoghi rispetto ad altri? Ma allora Da una parte per la vicinanza a casa Ok Nel senso che Esatto Spostandomi con i mezzi Perché in macchina ho appurato che è impossibile Da Milano Ho tutta la caravana dietro di cose che mi devo portare Tra cui chitarra, amplificatore, borsa Insomma un po' di cose Quindi è abbastanza vicino Ma è una zona anche abbastanza bella Dove passano abbastanza persone Quindi Di venerdì mattina però Esatto Sì Perché sono andata alcune volte di pomeriggio Ma non c'è la stessa affluenza Non c'è lo stesso riscontro E quindi in realtà ho capito che di mattina funziona meglio Forse la mattina c'è la gente che in realtà non deve correre per andare al lavoro a quell'ora Perché sono verso le 11-11 metri Quindi uno sta tranquillo a quell'ora Quindi vuol dire che vive la sua giornata serena e tranquilla Pomeriggio invece magari c'è i figli ad andare a prendere a scuola Porta il figlio a judo Quell'altro a tennis Quell'altro in piscina Quell'altro non sono dimenticato in macchina E quindi insomma non è facilissimo effettivamente E quali sono insomma Avrei magari cambiato anche Prima di tutto tu dicevi L'attrezzatura La chitarra L'amplificatore Basta O hai anche sintetizzatori Stampler Basi Looper No perché ho già la chitarra Con dentro tutti i cavi Cose varie Anche cartelli che metto sotto Con insomma il mio nome Con chi sono e tutto L'amplificatore Magari il giro dove appoggio il tablet con alcuni testi Perché non sono ancora un Jukebox Jukebox Mi mente E poi la mia borsa con le mie cose Insomma Quindi in realtà questo Che così non sembra tanto Però in realtà è un bel Non è neanche un gigante La povera Cecilia C'è un'immagine che insomma Non è così semplice Il mio carrellino che mi aiuta Sì sì no Ormai ho la tattica Il carrellino Una volta si prendeva in giro Il carrellino era la roba della nonna Che andava a fare la spesa E letteralmente il carrellino Che usavano i miei nonni Ormai è sdoganato Visto che c'è la scuola Con dei carrellini Gli artisti di strada usano il carrellino Sì ma più che sdoganato Quali sono le canzoni Che fai più spesso Ma allora O ti vedo anche richieste magari Sì allora Tendenzialmente sono proprio Canzoni che conoscono tutti Cioè i grandi classici italiani O in generale Grandi classici Che appunto conosce Sia il genitore medio di 50 anni Che il ragazzino di 15 Che il ragazzo di 25 Cose che Una persona che passa Lì e ti senti sottofondo Dice Ah quella canzone Se la canticchia tra sé Se è oppure Insomma viene in mente Dimmi che non c'è ancora Qualcuno che ha detto Invece mi fai l'ultima di Shiva Mi fai Oh quella Non è mai successo Oh la H7 No 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 Per adesso ancora no Ma meno male C'è ancora un barlume di speranza Allora No poi ogni tanto È anche passato Qualche mio follower Qualche persona che mi conosce Che in quel caso Magari mi ha fatto la richiesta Insomma per dire Ciao guarda io ti seguo Mi piacerebbe un sacco Sentire questa canzone E quindi ovviamente Con più che piacere Immenso Gli era suono Insomma E tutto Fai mai Fai mai pezzi tuoi? Ma in realtà Così per strada è difficile Nel senso che non hai L'attenzione di qualcuno Che ti ascolta In quanto artista O meglio Sì però È più complicato Magari ogni tanto Per sfizio Quando dico Eh ho voglia di questa canzone Anche se non è la canzone Magari che tutti conoscono La suono Anche perché Per prima cosa Deve essere un piacere per me Andare a fare Arte di strada Quindi E poi ce n'è una so Che canti sempre L'hai cantata anche online L'hai cantata anche qua Una volta È vero È vero Ed è un pezzo Che adesso andiamo a ascoltare Beatles Let it be Let it be Più o meno Eh capito Avete capito Perché non dovete perdervela Quando Tu pubblichi poi Sul tuo profilo Instagram Poi Sì 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 Esatto Sì Che è super comodo Per tutte le comunicazioni Per le persone Non telegrama Mozzapp Hai fatto Sì Penso Più facile Più fruibile Sì Sì Modo lì È un canale broadcast Dove la gente può entrare Io posso scrivere Metto tutte le comunicazioni Di quello che faccio Quindi anche eventi di busking Che è il termine più carino Per dire Arti di strada Sì E quindi così Questo E quindi ti si può seguire Sì la baschina È famosissimo Il festival di Ferrara C'è un festival Che è pazzesco Chiunque Io faccio tanto Ma poi in realtà Sono andato anch'io Negli anni Primi anni 2000 Sono andato anch'io una volta A fare niente A guardare e basta Nel senso Non so Racconto anche a te L'ho raccontata tante volte A un certo punto In mia vita ho pensato Che volessi fare il giocogliere Ok E quindi sono andato A vedere cose delle palline No E la prima lezione Ti fanno fare con due palline Ti dicono Lanciatela da una mano all'altra Dopo un quarto d'ora È arrivata la maestra A dirmi Magari tu inizia con una Ottimo Quindi ho capito Che non era quello L'ho lasciato stare Un grande margine di miglioramento No Invece io l'ho lasciato stare Tu vai fa niente Parto da troppo lontano Quindi ho capito Che non è quello Quando però appunto Vai a suonare così Cioè le prime volte Non c'era Una sorta di Due cose Per i boomer come me C'era Dalla parte la vergogna Dall'altra Quella di passare per un pezzente Che mi indica In mezzo alla strada Diciamoci la verità Guarda Ci passi sempre Quando inizi Penso Non avevo tanto paura Perché mi è sempre piaciuto Mettermi in gioco Buttarmi tutto C'era un po' Quell'ansietta del Caspita Sono preparata Questa cosa La gente si fermerà Magari Avevo l'ansia Che qualcuno si fermasse Mi dice Se no guarda Devi andare via Oppure che qualcuno Mi insultasse Non lo so Questo sicuramente Non succede Non succede E comunque La potete Seguite su Instagram Che potete vedere appunto Quando suonerà Nei prossimi giorni Ancora un po' di musica Poi torniamo qua Per gli ultimi minuti Insieme a te Andiamo avanti Con i Clash Lo dice anche Mina Che l'importante È finire Ma noi non siamo ancora Allora alla fine Abbiamo ancora Un po' di minuti Per stare insieme Tra pareti di Ceciux Ci scrivono Al 331 78535555 Fabio Dici qual è Nel senso che Ci sono un po' di Ceciux Su Instagram L'abbiamo visto Allora Credo che il gioco Sia che tu sei Ceciux Giusto? Con la doppia C iniziale Con la doppia C iniziale E' quella che fa la differenza C-C C-C C-E-C-U-X Ecco vabbè C'è lo spelling La spelling Questa cosa Che è così distante da me Ogni volta Chiedo scusa No no chiedo scusa Anzi tu studi lingue Quindi sarei sicuramente Più brava di me A fare uno spelling Io invece Parlo a Vander Tutte le mattine Da una radio Comunque Cercatela su Instagram Perché in realtà E quindi grazie A chi ci ha scritto Che ci ha detto Guarda che ci sono almeno 5 Ceciux Invece no Ceciux con due C C-C E-C-U-X Dopodiché Trovare un username Più semplice Ma non sarebbe divertente Anche perché tu sei Ceci Cecilia Con una C Eh ma Così Vabbè Comunque Stai fatto In realtà Se cercate Cecilia Riemer Comunque viene fuori Sì esatto Paglio io Riemer Come riemergere Come riemergere Io me lo ricordo sempre Ogni volta che devo scrivere Il tuo nome O devo chiamarti Ah perché è Reimer No Riemer Ormai è la formula Che uso sempre Come riemergere Anche quando prenoto I ristoranti Riemer come riemergere E a quel punto Non te lo scordi più Te lo dice uno Che per una vita È stato Banfi Invece che Ranfi Quindi insomma Ogni volta ormai Banfi Sì rispondevo Questo perché Non tiro mai fuori Neanche il secondo cognome Perché sennò Ah perché Diciamo Ricordiamolo Che tu sei come Ronaldo da Silva De Sosa Gabriere Infatti con 40 nomi Cosa abbiamo Come secondo Barbozza Barbozza Ogni volta la gente Pensa con la S Con la Z Barbozza In realtà è il più semplice Non vedo perché C'è difficoltà Però Io evito di tirarlo fuori Cecilia Gamer Fa molto molto Pirati dei Caraibi Devo dire Fa molto Pirati dei Caraibi È proprio il mio flex Sì sì Quella roba lì sì Chissà che magari Un giorno appunto Ti vedremo In qualche caso In qualche caso Solo per via del coin O magari la colonna sonora Che sappiamo No? Eh insomma Ma sarebbe un onore Sarebbe più Cioè no? Più che fare la piratessa Esatto Esatto Avrebbe Firmare una colonna sonora Sarebbe male Mamma mia Dicevamo appunto Che tra pari Tu sei anche Comunque grandotrice Fai anche cose tue Scrivi anche cose tue E non le porti magari appunto In strada Perché tu in strada Vuoi più farli canticchiare Fischiettare Quando passano Ma che cosa Hai scritto Magari poi Adesso La prossima volta Magari portaci qualcosa Che lo facciamo sentire Certo Nel senso no? Sì allora Purtroppo Ho il problema che No purtroppo No nel senso Che ho pubblicato poco Per ora Scrivo tanto Ma ho pubblicato ancora poco Ma meno male Guarda che c'è gente Che pubblica più di quello che scrive Cioè nel senso C'è gente che fa una canzone Poi fa il remix di quella canzone Sì è vero Poi fa il remix dub Poi fa la version Poi chiama un amico La versione spagnola Poi chiama un amico E fanno la featuring Cioè quindi alla fine Meglio scrivere meno Cioè scrivere tanto Ma pubblicare meno Certo No scrivo molto acustico Nel senso che Mi piace ascoltare di tutto Ma quando scrivo Mi ritrovo molto Praticamente sempre A essere voce E chitarra O piano O chitarra e piano Quindi finisco per Diciamo Puntare molto più Sull'acustico Sul Insomma Su cose di questo tipo Strumentale Un po' arioso Diciamo Quindi questo tipo di cosa Ecco diciamo Strumentale un po' arioso Un po' arioso Sì Nella mia testa Nella mia testa Aveva senso Nel senso A me piace Mi piacciono molto Le cose strumentali Magari degli archi Delle Non lo so Degli strumenti Che insieme danno Quella sensazione di arioso Che ti trasporta Non so come dire Quindi è il termine Che mi è venuto in mente Non so se sia Musicalmente appropriato Non penso Però Può rendere Può rendere l'idea E Il suonare in strada Ti dà ispirazioni Per i tuoi pezzi Oppure sono proprio Due mondi separati Quelli Ma allora Sì e no Non è tanto Il suonare in strada È più L'esperienza Che ho Dal suonare in strada Magari Quello che vedo Le persone che incontro Il tipo di interazione Che finisco per avere Anche il feedback Che ho dalle persone Spesso magari capita Che sto suonando Qualcuno si metta A parlare con me Mi dice qualcosa Poi mi scrive su Instagram Mi dice Mi è piaciuto un sacco Quando hai suonato Questo pezzo Perché Blah 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 Allora io magari Faccio caso A quello che funziona meglio Per la mia voce A quello che anche da fuori Si sente che funziona meglio O comunque Anche in generale Ispirazione artistica Di quello che vedo Quello che sento Mentre sono in strada Magari mi viene Non lo so L'ispirazione per qualcuno Qualcosa Insomma In tanti modi E invece Ispirazione artistica Diciamo da casa In senso Fai studi Hai dei canali Che tu segui Più o meno Per trovare Ispirazioni Sono cose che hai già dentro Sotto pelle Ma allora Tendenzialmente È molto sul momento Nel senso che In un determinato momento Mi viene Che io sia a casa Che io sia fuori Mi viene Quell'ispirazione Mi viene quell'idea Qualcosa Che mi accende La lampadina Ci sono volte In cui Devo essere Un po' più Disciplinata Nel senso Dico Ok adesso Mi siedo E vedo di Cercare di lavorare Su questa cosa O su questa cosa Che sto scrivendo Quindi magari Mi metto lì Tendenzialmente Mi metto in silenzio In un punto Che so Che la mia mente È rilassata Che si può lasciare andare E a volte Appunto È un po' più Disciplinata Come cosa Mi metto qua Ci lavoro Scravo faccio Alla faccia di chi dice Che dal caos Dall'artista Sono tutti fuori di te No Cioè invece disciplina Anche nel fare l'artista Sì esatto Bene 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 Andiamo avanti con la musica E poi torniamo qui ancora Con Cecilia Riemer A nome d'arte Riemer Bravissima Riemer Sì Riemer Come riemerge Come riemerge Chechux Man at work Down Under Alle 8.45 minuti Ultimi blocchi Ultimi blocchi Di trasmissione Qui con Chechux Cecilia Riemer Che Oggi non va a suonare Oggi no Oggi no Però stasera Faccio una live Su TikTok Ah vedi Eh perché poi c'è anche questa C'è anche questa roba qui Esatto Oh ma è o poi sono in live Come Come vanno queste live Ma in realtà è benissimo Sono molto gasata Perché Oggi ricomincio Perché Nell'ultimo mese e mezzo Sono stata via In vacanza Qua e là Quindi Periodio di pausa Diciamo È sempre bellissimo Perché Posso sempre parlare Con le persone Ormai mi sono anche affezionata Diciamo I miei follower E tutto Quindi Il fatto di risentirli Sapere come stanno Come è andata l'olore estate Sono molto contenta E TikTok Tra i anni si nasceva Proprio per la musica Mi ricordavo TikTok era L'ex musicalist Sì esatto Quindi insomma Nasceva proprio È vero Per la musica Quindi evidentemente Ancora nel suo DNA Questa cosa Che viene utilizzata Molto appunto Dari artisti come te Per Importante Da quanto ho capito Spesso vengono a dire Insomma Questi social Diciamo che sono Schifo Però vedo che in questi casi Sono fondamentali Ma anche per tenere Proprio dei rapporti Vedo Sì no esatto Infatti io sono Super dell'idea Che certo Ovviamente I social hanno sicuramente Tanti aspetti negativi Ma tantissimi positivi Proprio come questo Il fatto che sia Così facile Finire diciamo Nelle pagine Delle persone Poi magari le persone Entrano E si ha proprio Un bel momento Insieme in live In cui si canta Si chiacchiera Ci si conosce Ci si affeziona Insomma Anche in questo caso Magari io che suono E tutto E proprio bello Cioè Sì sì Divertente Bello Genuino Ecco se fosse l'85 Ti chiederai cosa c'hai Che cassetta hai Nell'Walkman In questo momento Siamo nel 2024 L'ultima Ascoltata su Spotify Apple Music Così Cos'è Mentre venivo qua Ho ascoltato Una sera di Fulminacci Una delle canzoni Che più mi piace Uno degli artisti Che più mi piace Sono stata al concerto Qualche giorno fa Quindi quella Sì Anche quella Capita quasi sempre Che me la chiedono In live Sì sì E perché poi infatti Chi ti segue sui social Diciamo Avete molto veramente Gli stessi gusti Oppure riesci a fargli scoprire Magari a volte cose nuove Ma in realtà La cosa che mi piace Delle live È che Essendo esposta A così tante persone Finisco per suonare Davvero Un sacco di Di cose varie Tra loro Ed è sempre interessante Perché spesso Mi chiedono canzoni Che magari Sono molto diverse Da genere acustico Che una persona Può suonare Con chitarra e voce Però quindi La risuono La rivedo In chiave acustica Perché io lì sono Con chitarra e voce Non ho altro E quindi in realtà È molto bello Cioè è proprio Molto vario Per una live Su TikTok Fai delle prove prima Quante prove ci sono Pensi a una sorta Di scaletta Allora Prove no Ho magari I miei dieci minuti prima In cui mi scaldo Velocemente la voce Sistemo la postazione Tutto Perché anche visivamente Devi curare Diciamo Certe cose E in realtà Oltre quello Non ho troppo Una scaletta Nel senso che Io più o meno So come guidarla Cosa fare Come gestire Non suono H24 Mi prendo il tempo Per parlare con le persone Per chiacchierare Anche per fare Una pausetta Ogni tanto Bevo un goccio d'acqua Tendenzialmente Incomincio sempre Con una canzone Che è due minuti Di Calcutta Un po' perché è divertente Un po' perché è una canzone Che conoscono tutti E chiudo sempre Con Buonanotte Fiorellino Perché ormai È la cosa È la tua alba chiara Sai che Vasco Chiude sempre con un alba chiara Quella è la tua alba chiara Perfetto Sì 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 E poi la gente Solo aspetta ormai 90% delle persone Mi conosce per quello Quindi non posso non farlo Occhio perché poi Finisci come De Gregorio Che invece Non fa più generale Perché non ne può più Perché tutti gli chiedono generale Dici ma non la faccio più Non ne posso più Quindi non stressate Troppo ceci Su Buonanotte Fiorellino Tanto ve la fa prima o poi Se non gliela chiedete Sicuramente la fa Non cominciate A stressare troppo la vita Va bene So che prima mi dicevi Che invece ascolto anche roba Wiz Khalifa Stavi ascoltando Mi dicevi proprio fa Sì 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 Ma perché a livello di ascolti Sono proprio E allora te la faccio ascoltare Perfetto Insieme ai Maroon 5 Con Payphone Dal 2012 Qui su Crystal Radio Good morning Minano Maroon 5 Payphone Con Wiz Khalifa Devo dire che io In cuffia Sentivo anche Ceci che la cantava Era meglio di Maroon 5 Addirittura Sì come è che fa Che tornello Cioè capito Io sentivo questa cosa In cuffia Non quello lì Dei Maroon 5 Che non so neanche Seguire Allora innanzitutto Mi trovate su Instagram TikTok Ceciux oppure Cecilia Riemer Che forse è più facile Come riemergere Come riemergere Esatto Il prossimo appuntamento Sai che è il titolo Del tuo primo album Dovrà essere Come riemergere Bellissimo 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 Abbiamo capito Stupendo Il primo appuntamento Appunto è stasera Alle 9 e mezza Su TikTok Dove ci vediamo Per una live E il prossimo È venerdì Questo venerdì 13 Dalle 11 alle 13 In piazzale Baracca Per una sessione Di basking Cioè arte di strada Arte di strada Sotto il ponte di Baracca C'è Ceci Che suona Non fate battute Non fate battute Stupide Subito Non fatevi riconoscere Il mio pubblico Non mi scusa Chiedo scusa Per il mio pubblico Chiedo scusa Per il mio pubblico Dopodiché Allora quindi Seguite Ceci Ceci Grazie davvero Di essere stata qui Con noi questa mattina In bocca al lupo Per tutto Speriamo di Trovarci presto Con altre grandi novità Io vi aspetto Mentre faccio basking Se passate lì Vi suona una canzone E cercheremo di venire Una volta Adesso ci organizziamo Cercheremo di venire Io porto il tamburello Esatto Suoniamo Lady B Insieme Suoniamo Lady B Perfetto Noi mi faccio il caschetto Come i Beatles Mi faccio Ok Grazie Ceci Un saluto a tutti Sigla